buonasera cari amici vi devo dire che purtroppo ve lo dico in anticipo che stasera non potrò rispondere alle vostre domande per cui potrò solo a leggervi alcune parti della di questo argomento appassionante che stiamo leggendo insieme commentarle come come posso fare perché è un argomento veramente si parla dell'assoluto commentare ciò che i maestri hanno detto sull'assoluto è veramente come dire una pretesa perché la chiarezza che hanno messo loro nello spiegarci queste cose è assoluta stiamo leggendo dai mondi invisibili che il primo volume del cerchio firenze 77 siamo proprio in fondo in fondo in fondo a pagina 231 cioè riprendiamo da dove ci siamo lasciati la volta scorsa e cercheremo di continuare questa nostra lettura che sta andando sta avvolgendo verso la fine di questo volume della parte di insegnamento di questo volume come sempre ringraziamo anna tamburini torre enrico ballantini che ci che ci permettono di avere questi incontri e cominciamo cominciamo da ad entrarci di nuovo dentro il tema del dell'assoluto l'assoluto qui questo questa parte inizia dicendo che è un pc il maestro campus dice la realtà è ciò che ricordate questa frase già stata detta anche ripetutamente nelle pagine che abbiamo già letto la realtà è ciò che è è qualche cosa di estremamente sintetico ma che indica bene stiamo parlando dell'essere è ciò che è qui è indicato proprio con una lettera maiuscola e ciò che la realtà assoluta è dio la realtà assoluta è oggettiva oggettiva abbiamo già visto leggendo precedentemente che per oggettivo c'è solo l'assoluto non c'è altro di oggettivo tutto il resto è relativo in qualche modo relativo cioè limitato esprime una limitazione mentre l'assoluto abbiamo visto quali sono i caratteri dell'assoluto cioè di dio e di infinita presenza e di onniscienza di assolutezza di completezza è una condizione di eterno presente e quindi fuori dal tempo è una condizione di eterna presenza e infinita presenza qualche cosa che la nostra mente riesce a contenere solo come espressione verbale ma non riesce certo a contenere come comprensione intima di questa condizione dice il maestro mentre esiste oltre a la realtà assoluta che è oggettiva esiste anche una realtà soggettiva ed è la realtà che l'individuo acquisisce in un determinato periodo della sua evoluzione ovvero l'individuo noi per esempio siamo esseri relativi limitati e facciamo l'esperienza di una realtà soggettiva soggettiva vuol dire relativa al soggetto la realtà di cui io faccio esperienza guardandomi intorno è relativa a me che la osservo cioè la realtà così come la osservo io anche semplicemente da un punto di vista geometrico dove sono io adesso sto guardando la realtà seduto dietro a questo tavolo alle spalle a una scrivania e davanti ho per esempio un computer da quanti a cui sto parlando e vedo davanti a me una stanza e poi una finestra e quello che c'è oltre la finestra questa è la realtà nella quale io mi sto muovendo ma ci fosse un altro nella stanza che sta all'altro capo della stanza ad osservarmi mentre parlo la sua realtà comprenderebbe me stesso che parlo e la stanza vista però dal suo punto di vista quindi quella realtà sarebbe una realtà soggettiva relativamente a lui quella che vedo io è soggettiva relativamente a me cioè ognuno di noi in pratica è come dire il punto di osservazione del mondo nel quale si muove e il mondo nel quale si muove la realtà che sperimenta è relativa a lui proprio a lui e come la vede lui non la vede nessun altro quindi per ognuno di noi si potrebbe dire che c'è una sua realtà soggettiva e si dice qui le che l'individuo acquisisce in un determinato periodo della sua evoluzione nel nostro caso il periodo evolutivo che noi stiamo attraversando qual è periodo evolutivo è semplicemente quello di incarnazione da uomo incarnazione da uomo in una determinata epoca dove avvengono determinati eventi siamo in quella fase evolutiva prosegue campis la realtà assoluta essendo dio è infinita illimitata immutabile onnipresente onnisciente questa realtà assoluta non è dall'uomo compresa in una sola volta allora i termini che vengono usati qui da campis sono come dire vengono ammorbiditi semplificati perché stiamo entrando appena appena dentro questi concetti quindi quando lui dice non viene compresa in una sola volta vuol dire che l'uomo l'uomo nelle sue fasi incarnative da uomo procede nel suo percorso evolutivo e acquisisce una visione sempre più approfondita di questa realtà ma sempre parziale perché l'uomo è limitato in essere relativo e quindi ciò di cui fa esperienze qualche cosa di contenuto delimitato quindi non può come dire comprendere la realtà assoluta nella posizione in cui si trova e neanche in una sola volta possono essere viste alcune parti di questa realtà per così dire ognuna delle quali è reale non meno di tutta la realtà completa però queste parti possono essere acquisite dall'individuo non esattamente proprio perché l'individuo è relativo e ha una visione soggettiva di una stessa realtà facente parte della realtà assoluta due osservatori possono dare due diverse interpretazioni accade quindi che questa realtà la quale fa parte della realtà assoluta diventa per questi due individui soggettiva quello che si diceva prima no però esiste un qualcosa il quale per sua natura se per assurda ipotesi fosse visto non darebbe adito non darebbe adito a false interpretazioni e questo è lo spirito lo spirito non può essere interpretato in un modo o in un altro lo spirito è qualche cosa di essenziale e infatti lui il maestro dice se per assurda ipotesi fosse visto non darebbe adito a false interpretazioni perché per assurda ipotesi perché non è possibile vedere lo spirito tanto noi per vedere come soggetti incarnati intendiamo il vedere con gli occhi no il guardare il vedere lo scrutare l'osservare tutto questo ovviamente non ci permette di incontrare lo spirito che è la sottigliezza dello spirito non è neanche descrivibile ma non solo di questo si tratta perché se dovessimo entrare in contatto con lo spirito non saremmo più essere incarnati saremmo altro e quindi il vedere sarebbe tutt'altra cosa che cosa vuol dire ciò lo spirito essendo unico come numero uno se visto non può mostrare diverse facce cioè lo spirito è all'origine di tutto quanto e quindi non è interpretabile quello e basta la realtà è complessa è vastissima infinita e può mostrarsi in varie parti costituenti per colui che scusate che mi devo rendere conto per colui che la vede a parte l'errore di interpretazione che da adito a una verità soggettiva come si diceva poc'anzi per colui che la vede può vederne una parte sola e non la realtà nella sua completezza e già questo non riesce a cogliere la realtà assoluta perché vede un frammento mentre lo spirito essendo unico non può essere scisso in parti costituenti per fare un esempio prendiamo un cubo colorato di un colore non ben definito fra più osservatori possono esistere alcuni i quali possono vedere e definire quel colore in modo diverso da altri semplifichiamo togliamo l'incertezza relativa al colore e poniamo che sia bianco l'incertezza diminuisce ovviamente essendo il colore più definito c'è la sfumatura di bianco bianca bianco e quindi l'incertezza non esiste più fra gli stessi osservatori vi può essere qualcuno il quale dica che la figura non è geometricamente perfetta cioè la vede come se non fosse geometricamente perfetta allora noi semplifichiamo ancora e riduciamo il cubo a un quadrato cioè a una figura che non ha più tre dimensioni come il cubo ma a due dimensioni fra gli stessi osservatori può esistere ancora colui il quale abbia un'incertezza e dica che il quadrato non è geometricamente esatto però le possibilità di farsa interpretazione sono diminuite a questo punto essendo diminuita la complessità della figura diminuiamo ancora le possibilità fino ad arrivare al punto geometrico in questo caso il punto geometrico non può essere visto e non può essere neanche rappresentato ma per ipotesi ponendo che si possa vedere un punto geometrico la possibilità di farsi interpretazioni diminuiranno cioè più si va verso la radice di ciò che c'è e meno è interpretabile perché si va sempre più vicino a ciò che è esatto che è vero che non è più soggettivo ora dice il maestro campis esiste una differenza fra realtà e spirito lo spirito è realtà però lo spirito non è tutta la realtà la realtà è qualcosa che va oltre ancora lo spirito lo spirito però è la radice della realtà lo spirito benché sia la radice della realtà non è la realtà completa la realtà la realtà completa e dio cioè l'assoluto naturalmente è la realtà assoluta lo spirito è il numero uno la prima sostanza ma non è è tutta la realtà è tutta la realtà dio è ancora qualcosa in più dello spirito trascende lo spirito dio è il tutto e quindi è lo spirito ed è la materia è l'energia ed è la mente lo spirito se vogliamo fare una scala è ciò che è più vicino a dio è la porta attraverso la quale si passa per arrivare alla conoscenza di dio e quindi in un certo senso è dio privo di veli ma dio è oltre lo spirito è lo spirito e anche tutto il resto questo è l'assoluto altrimenti identificheremo l'assoluto con lo spirito e lo limiteremo in ciò che è lo spirito che è come la sostanza di dio facciamo ancora un esempio supponiamo di essere in un mondo fatto di ghiaccio lo spirito sarebbe l'acqua che compone il ghiaccio e quindi radice di questo mondo di ghiaccio ma il mondo è tutto il mondo è l'acqua è il ghiaccio ed è tutta la realtà che è espressa da questo mondo di ghiaccio e mondo di ghiaccio non è solo gli oggetti e anche le opinioni che se ne hanno l'impatto che che dà su chi lo osserva la possibilità di essere osservato tutto quello che si può aggiungere rispetto al fatto in sé di essere fatto di ghiaccio quindi l'assoluto la realtà comprende tutto quanto è più delle sostanze e degli elementi che costituiscono questa realtà la realtà assoluta può essere sperimentata solo da chi si è identificato con l'assoluto questi chi si è identificato con l'assoluto non è più soggetto come siamo noi ma in questa comunione sente ed è il tutto l'identificazione con l'assoluto non vuol dire però annichilimento cioè cancellazione di sé la scomparsa di ciò che si è bensì sentire il tutto con una vivezza indescrivibile colui che si identifica con l'assoluto è assoluto e se qualcosa fluisce dall'assoluto fluisce da lui cioè trascorre dentro di lui e se qualcosa dall'assoluto deve venire agli uomini può venire da lui senza che per questo si debba dire che le leggi sono insufficienti chi si identifica nell'assoluto diviene egli stesso la legge chi si identifica dell'assoluto può essere un canale attraverso il quale giunge qualcosa all'uomo senza che in quest'opera vi sia un fattore personale diventare strumento della legge ed essere la legge stessa occorre solamente riuscire a capire che chi è giunto alla massima evoluzione all'identificazione con l'assoluto diviene uno nel tutto e quindi diviene la legge diviene l'amore è la vita è il tutto e proseguiamo con con la nostra lettura dice il maestro campis e qui siamo a pagina 234 del libro dei mondi invisibili l'assoluto è il tutto ma è anche l'uno l'assoluto non è rappresentato dalla totalità delle cose ma trascende questa totalità il tutto è nell'assoluto l'assoluto è il tutto ed è nel tutto l'uno dai mille volti l'assoluto non è una realtà che comprende in sé infinite realtà a sé stanti cioè una realtà fredda una realtà che risulta dalla somma del tutto no è la totalità del tutto ma è l'uno questo che cosa significa significa che l'assoluto non è un insieme di parti che lo costituiscono che sarebbe il tutto no la somma di tutte queste parti è tutto quanto c'è e quindi quello è il tutto e l'assoluto sarebbe il tutto no è quello ma è anche all'interno di ogni singola parte quindi non sono tutto un insieme di cose che stanno come dentro un contenitore che sarebbe l'assoluto no perché l'assoluto è al tempo stesso dentro ogni singolo componente di questo tutto vivente in quel singolo componente di questo tutto e poi lo trascende perché non è fatto non è smembrato frammentato in tutto qui in questo tutto ma è anche ciò che lo tiene insieme che lo che lo compatta che gli da viva gli da vita che sta oltre questo tutto che è di più ed è l'uno l'unico esiste solo come realtà oggettiva esclusivamente l'assoluto mentre tutte le parti componenti sono realtà relative è l'assoluto sentire è l'assoluto amare è l'assoluta consapevolezza di se stesso è l'immediato sentire di tutto ciò che è in lui mentre noi sentiamo frammento per frammento noi ci sentiamo nel momento in cui siamo noi ci percepiamo adesso per quelli che siamo in questo momento è la nostra presenza la nostra vita è nell'attimo in cui noi ci percepiamo in dio ogni momento di ogni essere vissuto che vivrà è sempre tutto presente e da lui sentito vivente costantemente in una condizione non temporale nella condizione di eterno presente quindi ha presente in sé e sente tutto quanto esiste attraverso gli esseri che vibrano esistono ma non in un tempo che scorre e quindi quando c'è il passato gli esseri non ci sono più questo è quello che sperimentiamo noi le persone i nostri avvenimenti l'avvenimento di un'ora fa appartiene a un'ora fa ma noi non lo possiamo più vivere in dio è tutto presente vivente costantemente in una condizione non temporale sentire di tutto ciò che è in lui l'assoluta consapevolezza del manifestato e del non manifestato egli quindi sente vive ama in noi e attraverso di noi egli è sentimento amore vita ma non come idea astratte non come concetti idealizzati ma come realtà viventi del tutto uno qui c'è una cosa che lascio a voi di leggere da soli che è una paginetta circa che riguarda la preghiera perché vorrei scivolare verso alcuni alcuni argomenti che riguardano sempre l'assoluto e per cui questa la lascio leggere voi perché anche di facile comprensione ma andiamo alla pagina successiva 235 dove dice campis affrontiamo ora l'obiezione che scaturisce in chi conoscendo il male del mondo non riesca a comprendere come questo male al pari di tutte le cose sia nell'assoluto e come dall'assoluto e nell'assoluto siano emanati i cosmi che sono relativi per definizione stessa l'assoluto è il tutto il manifestato e non manifestato tutto quanto in questo cosmo esiste sentimentalmente mentalmente sensazionalmente fisicamente è nell'assoluto ma dio trascende abbiamo detto la totalità del tutto egli è l'uno assoluto tutto quanto in lui tutto quanto in lui non può che essere relativo essendo una parte di questo tutto il male quindi è relativo ed è del relativo il male come ogni altra bruttura per quanto orribile possa essere fa parte del tutto come il relativo è nel tutto ma ciò non vuol dire che faccia parte della natura di dio perché egli è l'uno assoluto che trascende la totalità delle cose cioè noi tendiamo alle volte ad attribuire le cose che noi conosciamo le cose che per noi hanno una determinata natura che hanno la natura del relativo cioè della nostra esperienza e pensiamo di cercare di comprendere come queste cose possano fare parte dell'assoluto ma la natura dell'assoluto è all'interno di queste nostre esperienze nel momento in cui sono relative ma la natura dell'assoluto è un'altra cui trascende tutto questo e quindi quello che noi giudichiamo secondo le nostre categorie non è contenuto da dio con le stesse categorie anzi non ci sono categorie in lui è una nostra esperienza poter esprimere categorie è parte dell'esperienza di qualche cosa di relativo nell'assoluto non c'è ovvero è presente attraverso di noi nel modo relativo in cui noi lo rappresentiamo questo vale anche per il male così come per il bene egli è l'uno assoluto che trascende la totalità delle cose dice campis dio che è l'eterno presente l'infinita presenza conosce tutte le cose prima ancora che queste siano conosciute e operate dall'uomo l'individuo che attraverso i millenni forma la propria coscienza e nasce spiritualmente concepisce tutte le brutture possibili fino a che la sua coscienza non è abbastanza formata da condurlo all'identificazione con dio cioè renderlo partecipe della natura divina consapevolmente partecipe della natura divina perché perché la natura divina è in ognuno di noi già adesso noi non ne siamo consapevoli naturalmente come esseri relativi non possiamo cogliere questa dimensione quindi qui ci ha descritto un pochino quello che succede nel nostro percorso evolutivo è logico che sia così dice campis il male pur essendo concepito solo da chi non ha compreso la realtà del tutto è un fattore dell'evoluzione individuale cioè si passa dal dal selvaggio che compie il male anche inconsapevolmente alla persona invece che consapevolmente compie il male e poi superando il male a poco a poco va oltre e se compie il suo percorso evolutivo che lo allontana sempre di più da un comportamento errato e lo conduce a un comportamento sempre più benevolo altruistico migliore dice campis non è contannabile il fiore che non è ancora sbocciato ecco perché la giustizia di dio sarebbe inconcepibile senza la sua misericordia la nascita spirituale dell'uomo comprende la fase in cui egli sentendosi separato e distinto da quanto lo circonda nella sua mente concepisce il male proprio perché non comprende la realtà ma per comprenderla egli deve compiere il cammino dell'evoluzione nell'irreale mondo dell'apparenza scusate della separatività infatti è proprio dagli effetti che l'uomo subisce avendo concepito il male che egli prende cognizione di che cosa sia il male e corregge così la sua natura interiore fino a riconoscersi uno col tutto e a trasfondere in essa l'amore divino capite quanto è importante anche quella categoria la categoria del male nel nel nostro farci confrontare con questa nostra limitazione per poterla superare dagli effetti che l'uomo subisce una volta che ha concepito il male karma legge di causa ed effetto karma incontro del karma negativo sperimentare su di sé il karma negativo apprendere qual è la posizione corretta e non produrre più quella causa malevola che ha determinato successivamente una correzione di rotta è indispensabile per il percorso evolutivo dell'uomo fino a capire ad avere una coniezione di cosa sia male di che cosa non lo sia allora dire tutto è nel migliore e unico modo possibile pensate quanto è importante questa frase tutto è nel migliore e unico modo possibile anche le cose che a noi sembrano le più difficili da accettare noi adesso oggi siamo testimoni di cose che succedono nel mondo che sono brutte e pesanti vediamo l'egoismo vediamo la follia di chi governa i popoli vediamo le guerre vediamo cose assurde vediamo i barconi che si rovesciano la gente che muore in mare vediamo cose tremende e affermare questo tutto è nel migliore e unico modo possibile non è una questione non deve essere una questione di fede in questa affermazione ma è comprendere la funzione di tutto questo è un mondo attraverso il quale l'uomo matura attraverso il quale ognuno di noi matura ognuno di noi può oggi esprimere avendo probabilmente già vissuto in altre incarnazioni condizioni in cui ha espresso il male il mare vera quello brutto quello proprio cattivo il male così che non vorremmo oggi vedere ma avendo vissuto quello siamo in grado oggi di capire alcune cose di questo male e voler prendere le distanze da quello che vediamo e dispiacerci soffrire per questa gente che si rovescia con i barconi e che muore in mare quello che avviene che viene fatta ai bambini l'indifferenza degli uomini i governi che si danno addosso l'uno all'altro l'interesse solo economico che prevalica su tutto tutto questo noi possiamo in qualche modo sentirlo dentro di noi con un senso di rifiuto di voler cambiare questo mondo che non ci siano più queste cose ma vuol dire che abbiamo acquisito un grano di coscienza in più attraverso tante esperienze che ci hanno portato fino a questo punto ma possiamo esprimere questa distanza da queste brutte cose che vediamo perché ci sono se non ci fossero non potremmo neanche esprimere questo nostro distacco di questo nostro voler cambiare e migliorare le cose questa è una funzione per noi ognuno di noi vive poi soggettivamente la sua realtà all'interno ognuno della sua realtà vive un certo tipo di esperienze di mondi, di conoscenze per le quali esprime o vicinanza o distanza giudizio, desiderio di trasformazione tutto questo può avvenire solo se c'è l'altro aspetto con il quale confrontarsi per questo tutto è nel migliore e unico modo possibile allora questo non suonerà più come conforto o controsenso ma svelerà il vero significato che sta oltre ciò ogni umana vicenda sembrerà lontana perché il suo insegnamento importantissimo per chi da questa deve trarre esperienza sarà così superata il fiore sarà allora sbocciato quel fiore che si diceva non si può condannare il fiore che ancora non è sbocciato il fiore sarà allora sbocciato l'uomo calcherà un nuovo cammino non più inconsciamente ma sicuro di procedere verso la sua vera meta il principio e il fine del tutto sia principio come principio statutario sia fine come scopo da raggiungere qui si torna a parlare della legge di evoluzione del concetto di evoluzione e dice il maestro la legge di evoluzione siamo sempre a pagina 236 la legge di evoluzione l'evoluzione spirituale è una verità che non è soggetta a verifiche fino a che si comprende che lo spirito non può evolvere quindi non è lo spirito che evolve generalmente è accettata dai più perché riscatta il mondo quale è si dice che gli orrori il sangue tutto quello che arreca dolore all'uomo esistono perché gli uomini non sono evoluti ma quando lo diverranno il mondo tornerà ad essere il biblico Eden accettare l'evoluzione per il suo lato accomodante la rende oleografica e bisognosa di essere contestata non solo ma l'evoluzione spirituale è intesa dagli spiritualisti come appartenente ad una visione dell'esistente fatta dal punto di vista del divenire è il classico divenire cioè divenire in meglio e noi abbiamo già visto che questo divenire non esiste il divenire è un'esperienza che viviamo noi in virtù di come siamo costruiti come esseri relativi dice il maestro quando vi parliamo della differenza quando vi parliamo della differenza che esiste fra divenire ed essere voi non ricordate che su questo argomento ci sono state perfino delle scuole filosofiche meravigliose degli antichi filosofi per esempio la scuola Eleatica Parmenide, Zenone, Melisso i quali un po' per intuizione un po' perché avevano ricevuto una tradizione orale che veniva dall'Egitto e ancora dalla Siria, dalla Babilonia e persino da Atlantide avevano capito che la realtà non può che identificarsi nell'essere e che il divenire che osserviamo nel mondo che ci circonda scaturisce da una falsa testimonianza dei nostri sensi in qualche modo i nostri sensi ci ingannano perché le critiche che si possono fare al pensiero degli antichi filosofi in questo senso possono essere rivolte a capire unicamente e solo i sistemi da loro pensati per conciliare il divenire con l'essere ma non l'idea centrale che la realtà si debba identificare con l'essere cioè si possono fare critiche su queste filosofie bellissime che ci sono state in passato per il modello descritto la modalità per descrivere questa ipotesi ma l'idea centrale che la realtà si debba identificare con l'essere non può effettivamente essere messa in discussione per esempio gli atomisti dicevano che l'essere è indivisibile appunto l'atomo atomisti atom e che il divenire risulta dalla combinazione degli atomi da cui appunto scaturiscono le differenti materie con tutte le loro trasformazioni non accorgendosi che in questo modo riducevano l'essere alla radice delle cose e davano al divenire una stessa realtà cioè davano la stessa importanza evolvere non significa divenire e questo è un passaggio che noi piano piano dovremo imparare ad accettare evolvere non significa divenire divenire migliori ma è il manifestarsi attenzione a queste parole è il manifestarsi in successione di diversi sentire corrispondenti a tanti stati di essere è fondamentale capire ciò cosa vuol dire questo? vedete qua noi stiamo leggendo alcune cose che sono dei nuclei fondanti di tutto l'insegnamento dei maestri del Cerchio di Firenze di Tante Sette che se voi andate ad aprire l'ultimo libro di insegnamento dei maestri del Cerchio di Firenze di Tante Sette trovate queste stesse cose ma finalmente capite perché all'inizio è anche difficile calarsi in questa esperienza di comprensione così profonda ritroviamo le stesse cose naturalmente esplicate nel corso di tanti anni e quindi meglio descritte qui si va quasi per titoli ma evolvere non significa divenire ma è manifestarsi in successione di tanti sentire corrispondenti a tanti stati d'essere il sentire abbiamo detto abbiamo parlato di sentire di coscienza ricordate? il sentire di coscienza è proprio il nucleo dell'esperienza che viviamo ma il nucleo dell'esperienza che viviamo cioè il sentire la coscienza non è qualche cosa che diviene è qualche cosa che è come l'assoluto è ciò che è il sentire è ciò che è è un ciò che è relativo limitato ma è sempre ciò che è è anche questo fuori dal tempo quindi non diviene è come un frammento di coscienza cos'è successo? scusate il computer è andato in palla per un istante è un frammento di coscienza che è da sempre per sempre che è fuori dal tempo e siccome noi siamo come dire l'incarnazione la manifestazione di quel sentire di coscienza e siamo abituati a sperimentare il sentire di coscienza in questo modo come divenente pensiamo che anche il sentire di coscienza che ciò che evolve evolva come un divenire cioè migliori se stesso no siamo costituiti da tanti sentire che sono non da un sentire una coscienza che diviene che cresce che migliora ma tanti frammenti di coscienza che sono in una condizione atemporale fuori dal tempo se l'uomo evolvesse nel senso del divenire non giungerebbe mai a identificarsi in Dio un tempo perpetuo non basterebbe a comprendere l'infinito cioè non è che l'infinito è qualche cosa che neanche scorrendo un tempo lunghissimo sarebbe raggiungibile perché sarebbe sempre un tempo che scorre l'infinito è qualche cosa che è fuori è un'altra dimensione è fuori dalla condizione che sperimentiamo noi come esseri relativi immersi nel tempo nel divenire nello spazio e se evolvere significasse perpetuo divenire allora infinito dovrebbe voler dire spazio senza limite ed eterno tempo senza fine ma il tempo e lo spazio non sono valori assoluti e per il fatto stesso di essere relativi non possono essere senza fine la logica di Campis è assoluta è assoluta non puoi discutere con una logica così non puoi trovare è espresso in poche parole un concetto molto semplice semplicemente qualcosa essendo relativo non può essere assoluto e non può raggiungere l'assoluto quindi se noi sappiamo che esiste una identificazione in Dio evolvere deve significare una cosa diversa da una coscienza che cresce, 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 migliora, 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 migliora non può essere questo e quindi dobbiamo tirare fuori gli elementi che costituiscono l'esperienza del relativo metterli da una parte per capire qualcosa dell'assoluto dobbiamo ragionare in un modo diverso tempo e spazio non esistono il divenire non esiste ne facciamo esperienza costantemente ma l'esperienza di essere relativi che non possono che fare questa esperienza Dio può essere concepito in vari modi vediamo fin dove posso arrivare no, mi fermo qua guardate è talmente importante questa ultima parte che ho letto insieme a voi che penso che sia opportuno fermarsi qua e riflettere su questo perché questa si deve proprio radicare dentro per poter procedere in questo nostro percorso di conoscenza di queste cose altissime mancano pochissime pagine per giungere alla fine di questo capitolo sull'assoluto ma dovremo percorrerle lentamente lasciarsi penetrare da questi concetti vorrei solo tornare un momento su qualche cosa che è stato detto prima su cui io non mi sono soffermato ma che invece è all'inizio di pagina 236 dopo sei sette righe dove dice che la nascita spirituale dell'uomo comprende la fase in cui egli sentendosi separato e distinto da quando lo circonda nella sua mente concepisce il male proprio perché non comprende la realtà ma per comprenderla deve compiere il cammino dell'evoluzione nell'irreale mondo della separatività allora l'uomo compie il cammino dell'evoluzione nell'irreale mondo della separatività e quindi l'uomo ha la sensazione di compiere un cammino in questo irreale mondo della separatività sono tutte parole densissime perché irreale perché è soggettivo e non corrisponde a ciò che è mondo della separatività perché noi essendo esseri relativi e soggettivi vivendo una soggettività noi ci sentiamo staccati da tutto ciò che ci circonda non abbiamo la consapevolezza di far parte della stessa realtà della stessa esperienza non ce l'abbiamo questa consapevolezza di far parte tutti della stessa cosa di un tutto o uno assoluto non ce l'abbiamo né possiamo avercela perché essere relativi estremamente limitati coscienze che si stanno appena formando ma quando qui dice la nascita spirituale dell'uomo è come se descrivesse qualche cosa che ha un inizio e una fine ma non diviene cioè quell'inizio e quella fine ci sono tutte sempre ogni frammento della nostra esistenza è sempre presente quindi non è qualche cosa che rappresenta un divenire ma qualche cosa che è di cui noi percepiamo fase per fase frammento per frammento ogni singolo istante percependoci nel momento in cui ci ascoltiamo in questo momento io sono io esisto non esiste più l'attimo precedente deve ancora arrivare quello seguente io sono solo nell'attimo presente è lì che mi percepisco ed è lì che concepisco la realtà come divenente mentre invece ognuno di quei frammenti in cui io mi percepisco esiste da sempre per sempre in una condizione non temporale ci sono tutti tutti quanti miliardi e miliardi e miliardi di cosa? di sentire che manifestano se stessi attraverso quella modalità che io sto sperimentando in questo mio vivere relativo e soggettivo questo mi fa sentire separato separato dai frammenti della mia esistenza venuti prima di me quelli che saranno dopo di me separati dalla realtà che ho intorno a me separato dalle persone che mi circondano dal mondo che vivo questa separatività è il compito più importante che dobbiamo affrontare perché va superata attraverso tutte queste esperienze questo è quello che ci hanno detto che ci ha detto il maestro Kempis in queste due paginette densissime importantissime pagina 236 237 del libro dei mondi invisibili ripartiremo da qui fra due settimane la sera alle 21 e 30 e passerò molto piacere un po' di tempo insieme a voi in quell'occasione spero proprio che non ci siano come ci sono stati ultimamente problemi tecnici che ce l'hanno impedito spero di poter rispondere anche alle vostre domande adesso vi saluto e vi auguro buono studio grazie a tutti grazie a tutti